Mi fermo io? Sì, ci fermiamo un secondo perché stiamo per presentarvi, è arrivato Matteo Salvini, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, lo vedo passare ma arriverà qui sul palco. Eccoci qua. Dal podio, perché lei è sempre stato molto sensibile alla categoria professionale, allora occupandosi adesso di trasporti, in viaggio per esempio, si potrebbe immaginare su treni, autostrade, prego dal palco, prego autostrade, si potrebbe mangiare solo con ingredienti di provenienza italiana? Ah, la sprovvista l'ho presa. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie e complimenti per l'eleganza della tenuta. Sono scappato volentieri di corsa dal Ministero fra ferrovie, strade, autostrade, porti, aeroporti, però stiamo cercando di cucinare parecchi cantieri, a fuoco non troppo lento perché c'è bisogno di accelerare, perché significa lavoro. Ogni cantiere aperto significa dar lavoro agli operai e quindi in questo momento c'è fame di lavoro e quindi ogni cantiere che riesco a sbloccare, per me è un padre e una madre di famiglia che portano a casa uno stipendio. Grazie a tutti. Quando sono arrivato a 95 e non mi si chiudeva più l'ultimo bottone ho detto bisogna fare qualcosa, ho preso un tapiroulant che è in salotto, funge da appendiabiti, sta molto bene davanti alla televisione, è un elemento d'arredo veramente, i pantaloni si attaccano come... No, l'ho usato all'inizio, la corsa, poi la corsa è diventata la camminata veloce, poi è diventata una camminata mediamente veloce, poi diventa un appendiabiti stupendo, come penso molti uomini qua presenti in sala abbiano scherzi a parte. Grazie perché uno sorride però voi siete fra i primi ambasciatori del Made in Italy nel mondo e quindi il paese vi deve dire grazie perché grazie sotto la vostra divisa e sotto il vostro cappello gira anche la fatica di centinaia di imprenditori agricoli, di artigiani, di allevatori, di pescatori, di agricoltori e quindi la domanda era si può mangiare... Eh, si può mangiare italiano in movimento sui treni, su... nelle autostrade... Stiamo facendo una bella battaglia perché su questo tema io sono arrivato al Ministero da 51-52 giorni, ormai è come se fossero parecchi mesi, però ho trovato molta esterofilia e io dico per carità di Dio la concorrenza, l'Unione Europea, il bello di conoscere culture, sapori però se riesco a dare lavoro ad aziende italiane e a promuovere prodotti italiani io sono molto più felice, con tutto il rispetto per le cucine, le culture, i sapori, i profumi delle altre parti del mondo difficilmente se vado su un treno francese o viaggio su un aereo francese trovo lo stesso trattamento, mettiamola così, quindi aperti mentalmente, culturalmente, olfattivamente però ce lo diciamo sottovoce, io lo dico scherzando anche quando vado a incontrare ministri di altri paesi, come la cucina italiana nel mondo non ce n'è, perché siamo fra quelli che abbiamo poco da invidiare poi anche fare la spesa è un gesto politico, io vado con mia figlia ogni tanto a Milano a fare la spesa nel weekend, quindi anche scegliere quel tipo di frutta, quel tipo di verdura, quel tipo di pasta, quel tipo di olio è una scelta politica e poi io sono ben contento di confrontarmi con il resto del mondo però la battaglia ad esempio che stiamo facendo in Europa contro il Nutriscore a difesa della dieta mediterranea è una battaglia economica e sociale perché nessuno mi convincerà mai del fatto che un bicchiere di vino o una fetta di carne siano un rischio mortale per la mia salute, dipende sempre dalla quantità anche l'acqua può essere pericolosa per la mia salute se ne bevo 8 litri, però io penso che i dati lo stanno dimostrando che la dieta mediterranea, il nostro olio, la nostra pasta e i nostri alimenti siano molto più salutari di qualche elemento che ha il bollino verde del Nutriscore cioè sarebbe fuori legge, farebbe male il prosciutto di Parma o farebbe male l'olio, farebbe male il burro e fa bene la coca light o la patatina frutta surgelata io dico ognuno mangi quello che vuole, io penso che la dieta mediterranea sia la più salutare oltre che la più gustosa al mondo e quindi voi ne siete preziosi custodi e quindi di questo vi ringrazio noi cerchiamo di difenderla in ogni maniera da tutti i punti di vista, poi e mi taccio per non portarvi a tempo perché i protagonisti siete voi però penso che dietro il vostro cappello e la vostra giacca ci sia anche la voglia, con alcuni di voi mi conosco e ci conosciamo anche a tavola poi è bello anche sperimentare, è bello innovare, per me la tradizione è fondamentale però la tradizione va legata all'innovazione io stamattina ho partecipato a un'assemblea sulla sicurezza stradale, sugli incidenti stradali, abbiamo visto ahimè anche nell'ultimo fine settimana ragazzi e ragazzi che non sono tornati a casa il codice della strada è nel 1992 quando non c'erano le nuove tecnologie, non c'erano i monopattini elettrici, non c'erano tutto quello che vediamo oggi quindi tradizione sì e voi ne siete custodi collegate all'innovazione, io poi sono legato ai profumi tradizionali, mi sono concesso uno delle poche deroghe che mi sono concesso nella dieta in queste settimane è stata con il mio piatto preferito perché me l'ha tramandato la mia nonna perché io avevo una nonna con cui sono cresciuto e con cui ho avuto la fortuna di passare tanti anni di Mantova e quindi se mi dici con cosa sgarri la dieta con un piatto di tortelli di zucca, però burro e salvia, non col pomodoro perché il tortello di zucca se me lo stronchi col pomodoro e poi deve avere l'amaretto, come fai a non mettere l'amaretto nel ripieno del tortello di zucca adesso va bene l'innovazione però a tavola ci sono fatti anche tanti accordi politici perché ci si incontra anche meglio a tavola la cronaca ci riporta le spigole, le crostate, senza entrare nella dinamica politica però a tavola ci si apre un po' di più, è un momento di apertura, di incontro, di dialogo la domanda è molto interessante però siccome mi stressano tutto il giorno almeno a tavola non voglio rotture di balle va bene allora per lei va bene glielo concediamo no 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 scherzi l'istizione all'albo d'oro quindi per il senatore Matteo Salvini, vicepremiere, ministro delle infrastrutture e trasporti qui davanti per la photo opportunity, la casacca e l'iscrizione adesso c'era, io arrivo, c'era il mio portavoce che mi ha detto guarda che vai lì però ti danno la casacca e il cappello e poi ci saranno trasmissioni che ti prendono in giro c'è stato un mese l'altra volta, no? una scia di un mese ci sono stati quei buontemponi di striscia all'ontizia proprio settimana scorsa che hanno fatto tutto un servizio non ama la buona cucina non c'è da fidanzia e quindi teoricamente io dovrei dire ringrazio per il premio però Alessà non stava a mettermi il cappello e la casacca però visto che l'amicizia e la stima nei nostri confronti viene prima al calcolo politico chi se ne frega e viva il cappello e viva la divisa dei cuochi prego qui davanti il cappello manca questa volta perfetto nel frattempo il cappello è il cappello e il cappello è il cappello